C'è stata un'emergenza, ma mi sembra evidente che l'emergenza è stata abbondantemente sfruttata a livello globale da chi ci guida e ci comanda per tenerci buoni e zitti sotto. E gli artisti, in questo, si sono ancora una volta dimostrati tutti molto impauriti e pronti a seguire la scia. Ce ne fosse stato uno che, a rischio di prendersi critiche, si sia esposto. Queste le parole del cantante Enrico Ruggeri in un'intervista concessa a TPI. Guarda, alzo il tiro. Dopo aver citato Stalin, vado oltre. Pensiamo ai partigiani, quelli per ricordare i quali, il 25 aprile, in tanti hanno cantato Bella Ciao dal balcone, perché durante il lockdown usava così. Pensi che quei giovani sarebbero andati sui monti a rischiare di morire? In alcuni casi, proprio a morire, se avessero messo la loro salvaguardia, la loro salute prima del valore sacro della libertà? Ha domandato Ruggeri.